Gabriele Cremonini, Dinda. Dinda è un romanzo d'acque, un romanzo d'acque tumultuose come quelle che scendono ripide dai torrenti di montagna e volevo soprattutto mettere in risalto la storia di una donna che non accetta di chinare il capo come era comune fare alle donne del tempo, siamo nel 600, ma che si ribella e prende le armi. Ma per essere terribile e temibile si traveste da brigante. Lei fa anche un'altra cosa che era, diciamo così, non consentito, o non consentito no perché è un termine sbagliato, nelle città lo si faceva, diciamo che non era consueto che le donne imparassero a leggere e a scrivere. Lei impara a leggere e a scrivere. È una donna che non accetta di chinare il capo e non accetta di subire la violenza e di cercare di dimenticare, ma cerca invece la vendetta. E vuoi chiedermi delle altre cose? Un'altra cosa, ci saranno altri libri, sempre con l'ambientazione delle 600? Il 600 innanzitutto è un secolo che mi intriga perché è un secolo di passaggio tra quello che è la grande apertura del rinascimento e quella che sarà la grandissima problematica posta dall'illuminismo. Quindi è un secolo strano, anche in cui le violenze si esasperano. Ricordiamo che è il secolo in cui l'inquisizione ha gli ultimi colpi di code, sono colpi di code terribili. È un secolo in cui non si accetta del tutto la sessualità, per esempio, che invece esplode in pieno nel rinascimento. È un secolo di negazioni e privazioni, quindi mi intriga, mi intriga perché è un secolo che spinge alla ribellione. Quindi signore, che dire? Tutti in libreria a comprare dind.